Ancora un incendio mortale in Toscana. A Monterchi, nella frazione di Padonchia, in provincia di Arezzo, sono morti, forse sorpresi nel sonno, due anziani, Giuseppe Baldi, 84 anni, e Gina Scarselli, 80enne, disabile. Vivevano al primo piano di una palazzina, al secondo piano vivono i figli e la nipote, e l'allarme è partito proprio da quest'ultima, che si è svegliata intorno alle 4.40 del mattino e si è accorta del pericolo imminente. Sul posto, subito tre squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate da Sansepolcro, Città di Castello e Arezzo. Noi siamo partiti dalla caserma e sentivamo Sansepolcro che stava partendo. Quando siamo arrivati nel posto, Sansepolcro stava già operando dalla parte di sopra, però per il grande calore non riuscivano ad arrivare nelle stanze, e allora abbiamo deciso di intervenire dalla parte di dietro, con Città di Castello. La nipote e la mamma, rispettivamente di 27 e 56 anni, sono salite sul terrazzo e sono state poi portate in salvo. Entrambe, intossicate ma non gravi, sono state trasferite al pronto soccorso di Sansepolcro, in codice giallo. Cruciale l'intervento del fratello della vittima, che vive poco distante, salendo con una scala a pioli fino al terrazzino, ha aiutato i tre sopravvissuti a scendere, prima che il fuoco e il fumo aggredissero anche il piano superiore. Ma per i due anziani bloccati al primo piano, senza la possibilità di avvicinarsi a una via di fuga, non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, tra le possibili cause del rogo, il cattivo funzionamento di una stufa utilizzata dalle due vittime per riscaldarsi. Ma saranno i risultati dei rilevi dei vigili del fuoco a fare chiarezza sulle cause precise dell'incendio. L'uomo sarebbe morto carbonizzato, per lei invece sono stati fatali i fumi spregionatisi nell'incendio. È probabile che l'uomo abbia tentato di spegnere il rogo, ma che sia stato sopraffatto dalle fiamme anche a causa delle difficoltà di movimento dovute all'età. Probabilmente, sono in corso di accertamento, ma probabilmente c'era una stufa accesa. Nella parte bassa, dove abbiamo trovato la vittima, 85 anni, che aveva anche problemi di ambulazione. Grazie.